E' stato un consiglio regionale parente prossimo dello sbadiglio, quello che si è tenuto questa mattina nell'aula di Palazzo d'Aimmo. Assente il presidente della regione Francesco Roberti, che ha chiesto congedo dalla seduta a movimentare il dibattito, ci hanno pensato quelli del Movimento 5 Stelle che, va detto, sono un antitodo potentissimo a certe sedute al cloroformio. E' stato Andrea Greco ad incalzare l'assessore Micone sul tema dei fondi destinati al finanziamento delle attività culturali. L'assessore Arramo ha dato i numeri snocciolando una serie di iniziative finanziate per un importo di 1 milione e 250 mila euro dall'andocciata alla festa dell'Uva. Ha poi parlato del bando turismo e cultura ancora da fare per il 2024 e di 12 milioni di euro complessivi per il settore, che tuttavia vanno ancora messi a terra. Una risposta a quella di Micone, che ha lasciato insoddisfatto il capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha attaccato soprattutto sui 500 mila euro conferiti dalla regione alla Fondazione Molise Cultura, per i grandi eventi, ma per i quali non esiste alcun disciplinare sull'assegnazione delle risorse. E' assolutamente insoddisfatto. La cultura, i grandi eventi del Molise, a partire dai misteri fino alle carresi, l'andocciata, le feste a Larino, a Riccia, insomma, sono il nostro patrimonio immateriale, culturale, sono il tesoro del Molise. E ad oggi però non ho avuto questa sensazione in aula, perché questi comuni, le associazioni che poi gestiscono, tutta una serie di soggetti stanno attendendo ovviamente dei finanziamenti regionali, che gli anni scorsi ci sono sempre stati. Ad oggi è stato tutto subappaltato sostanzialmente a Molise Cultura, la Fondazione Molise Cultura, senza dare un disciplinare sull'utilizzo di quei fondi. Quindi per il 2024 ci sono grossi problemi per l'organizzazione di questi eventi, che vanno sanati immediatamente, altrimenti il Molise ne risentirà, perché questi eventi sono delle straordinarie vetrine per tutto il territorio. A margine del Consiglio regionale, che si è occupato in via incidentale di opere pubbliche e servizi ASREM, è tornato l'argomento che ieri ha monopolizzato il dibattito politico, l'accordo di coesione e sviluppo, sottoscritto dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Francesco Roberti. Un accordo strutturato male, secondo la consigliera regionale del PD, Michela Fanelli. Non c'è un'innovazione tecnologica, non c'è un aiuto reale alle politiche industriali, c'è qualcosa per le imprese ma manca un'individuazione di prospettiva, perché per esempio non si capisce come questo sta all'interno dei territori, degli assi urbani. Faccio un esempio per esempio sulle infrastrutture per le bellezze culturali individuate. Castel Petroso, che ha tutto il rispetto ovviamente dal punto di vista religioso, 20 milioni di euro rispetto a evidenti bellezze culturali come Castel San Vincenzo, altre che per questa regione avrebbero un'urgenza e una rilevanza maggiore. Ho fatto solo un esempio per stare a interventi facilmente comprensibili, ma quello che manca è proprio una visione complessiva del Molise. Ieri abbiamo celebrato una sfilata come ce ne sono state altre, ma le altre erano state precedute da un'individuazione discutendo con il territorio.